Grazie a tutti, benvenuti Andrea Dupre in Chicago per un evento exotica. Vedete che l'internet web è pieno di persone, di donne, di donne che insegnano come fare una macchina corretta. E sono qui con una professora reale professora di macchina. Voi? Ciao, sono Heather e ho lavorato con i Enchanted Eyes. Voi lavorati qui in Chicago? Sì, abbiamo passato con i diversi shows. La mia questione è, qual è, in vostra opinione, per una ragione, per una moglie, la più erotica? Cioè, c'è una formula, come dicevi, c'è un modo per la macchina, per avere il sexo. Sì, è sicuramente il nostro prodotto con i Enchanted Eyes. Quindi, se vedete che tutte le donne venivano e ho messo glitter su tutti i loro occhi. Perché il tuo make-up è molto particolare, molto speciale. È super magico. Molto magico, sì. Molto magico. Grazie. Ci vedete ciò che vuoi. Sevi che vuoi... Cosa vuoi... Cosa vuoi... Cosa vuoi... I mostly voglio dire, ciao... Poi giocare con il glitter, giocare con il make-up... Aggiare un Enchantmento in loro nostro vita! Ma sei un artista di make-up? Sì, sono. Non sei una stella stella? Non, non. Ok. Mi chiedono perché mi chiedono qual è il tuo... Ok. Grazie per il tuo tempo. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.